È il concetto denominato marketing grafico. Che cos'è il marketing grafico? È la capacità di comunicare il motivo per cui devi acquistare da me in un tempo breve e conciso. Ciò significa comunicare il proprio fattore d'acquisto avendone il controllo. E questo poi lo andremo a vedere più avanti, però ricordatevi questa cosa. Io, grazie al marketing grafico, comunico a un target di persone in modo conciso, breve, nel più breve tempo possibile, la motivazione per cui devono acquistare da me. Il marketing grafico si suddivide in quelli che vengono definiti 5 punti. Cioè, questi 5 punti, ma questo lo metto già come premessa, tutto ciò che andremo a vedere, io non dico e non dirò mai che ciò che dico è legge. Assolutamente no. Anzi, in realtà quello che vi dico io è guardate ciò che comprende all'interno del brand position, in tutto ciò che è incluso all'interno della costruzione, della propria immagine e via dicendo. E riportatelo all'interno del vostro contesto, del vostro salone. Ma partite analizzando punto per punto, cioè partite dal focus, il focus dite, ok, lasciamo perdere tutto il resto, analizzo solo il focus e vi concentrate solo su quello. Poi, a un certo punto, lo slogan, la tagline, non siete d'accordo? Sti cazzi! L'importante è che però è iniziato ad andare in quella direzione di comunicare il vostro unico forte messaggio, il vostro fattore d'acquisto nel più breve tempo possibile. Quindi...